Buona serata e benvenuti. Bravi, puntualissimi e vi ringraziamo e vi presento nuovamente Valentina Facchin, molti di voi l'hanno già conosciuta a dicembre, local blogger, esperta in digital media e con Valentina stiamo facendo un ciclo di tre incontri per parlare di come sfruttare al meglio i social media non solo come vetrina ma anche per fare business. Quindi io parserei la parola a Valentina subito per parlare di questo secondo argomento così interessante che è poi entrare nel cuore della questione, l'altra volta abbiamo fatto una lezione introduttiva ma abbiamo già affrontato molti argomenti anche in un bel dettaglio. Quindi a te Valentina. Certo ciao Silvia e ciao a tutti buonasera a tutti e come abbiamo avvisato oggi vedremo come ottimizzare Instagram e Facebook partendo però prima da capire qual è l'obiettivo nel senso che nel momento in cui decidiamo di essere sui social è chiara la ragione per cui vogliamo essere sui social e Instagram e Facebook sono i social corretti per la nostra attività di business? Dopodiché appunto andremo nel dettaglio per vedere come ottimizzare la pagina Facebook e l'account Instagram perché questo ci permette di essere più visibili a persone in target con la nostra attività. Perché? Perché l'algoritmo legge l'informazione che diamo e ci va a suggerire a persone potenzialmente interessate alla nostra attività appunto. Dopodiché vedremo come estrapolare un piano editoriale e di conseguenza un calendario editoriale perché non ci si alza al mattino dicendo va bene adesso pubblico qualcosa sui social network non funziona così bisogna ci deve essere una strategia per raggiungere l'obiettivo e ci deve essere una programmazione. Poi vi do alcuni suggerimenti pratici di gestione di Instagram e Facebook e infine il link per contattare l'assistenza e anche la policy di Facebook perché? Perché nel momento in cui si vanno a fare campagne la probabilità di avere accanto pubblicitari bloccati campagne respinte è molto alta e quindi è fondamentale avere un riferimento dell'assistenza di Facebook. Quindi andiamo procediamo con l'obiettivo. Allora se siamo sui social network se decidiamo di essere sui social network c'è una ragione. Allora dobbiamo avere ben chiara quella ragione perché per essere presenti come un'attività di business sui social dobbiamo capire cosa vogliamo ottenere. Quindi nel momento in cui decidiamo di andare su Facebook e Instagram dobbiamo definire gli obiettivi della nostra presenza e andare a definire le caratteristiche del nostro potenziale cliente perché se non sappiamo le persone a cui noi vogliamo rivolgerci non possiamo neanche definire una strategia. Solitamente gli obiettivi quali sono? Sono farsi conoscere ad un pubblico più ampio, generare interesse e considerazione di acquisto appunto verso i propri prodotti o servizi e queste attività appunto si fanno con sia campagne ma sia anche a livello organico per cui attività non a pagamento con i classici post. E poi mantenere i clienti acquisiti e generare nuovi clienti. Questi sono i tre macro obiettivi che solitamente si hanno nel momento in cui si decide di approdare sui social network. Seguiamo. Allora innanzitutto nel momento in cui noi decidiamo di essere presenti su Instagram o Facebook dobbiamo tenere ben presente che non tutte le attività e non tutti i settori hanno lo stesso potenziale social e che ogni settore deve sottostare alle dinamiche del proprio settore appunto perché una gelateria avrà un compito potrà sfruttare Facebook o Instagram in modo molto più veloce con un riscontro molto più immediato in termini di contatti e clienti rispetto ad un'agenzia immobiliare. Perché? Perché se pensiamo al percorso d'acquisto di chi compra un gelato è un acquisto di impulso. Sostanzialmente nel momento in cui io ho voglia di mangiare un gelato lo vado ad acquistare. Se vedo una promozione su una gelateria molto probabilmente la mia fase decisionale coincide con vedo e compro. Stessa cosa non accade per esempio con l'agenzia immobiliare. Perché? Perché il percorso d'acquisto è molto lungo. Dal momento in cui io ho il bisogno di acquistare per esempio un immobile al momento in cui io lo acquisto il periodo può essere anche di un anno di due anni e in questo caso i social sono una parte, svolgono un'attività che è solamente una parte del far sì che quel contatto diventi un cliente. Ci saranno poi altre strategie messe in atto dall'agenzia immobiliare in questione per cui network marketing e quindi scusate il DEM per cui newsletter ci saranno attività di Google Ads, ci saranno altre attività e i social network si inseriscono come un tassello in queste attività e quindi nei momenti in cui dobbiamo definire l'obiettivo dobbiamo capire noi in che posizione siamo, qual è il potenziale social del nostro settore, qual è il potenziale social del nostro brand, è il nostro brand, il nostro prodotto o servizio che vendiamo è un prodotto o servizio d'acquisto d'impulso per cui è un acquisto immediato che i social possono tramutare immediatamente l'utente in cliente oppure il nostro settore, la nostra attività prevede un percorso di acquisto molto lungo. Quindi questa è una cosa fondamentale da tenere presente perché non si va sui social e si vendi a freddo, questa è la sacrosanta verità, ci sono pochissime realtà che lo possono fare, una di queste è la ristorazione, quello sì lo possono fare. Quindi una volta definito l'obiettivo l'altra parte fondamentale è definire quali sono i nostri clienti perché se noi non sappiamo a chi andiamo a vendere, se noi non sappiamo qual è il percorso d'acquisto che fa il nostro potenziale cliente o i nostri potenziali clienti perché molto probabilmente le attività hanno generalmente più di una target persona, di un cliente tipo, magari le piccole piccole possono averne uno però già una media attività ne ha due, già io mi rendo conto che ho due tipi di clienti diversi e lavoro in autonomo, quindi focalizzatevi sul vostro tipo di cliente, definite le caratteristiche per età, genere, per luogo di provenienza e potenzialmente anche interessi. Segnate quali sono le domande che più spesso vi fa, cosa non conosce della vostra attività e qual è l'unicità del prodotto che noi offriamo. Il nostro potenziale cliente la conosce? Quindi una volta definite le domande che ci fa più spesso il nostro potenziale cliente o i nostri potenziali clienti, possiamo già capire quali sono potenzialmente i bisogni a cui noi andiamo a rispondere, quali sono i desideri che noi soddisfiamo con il nostro prodotto o servizio e questo è essenziale sia per andare a costruire poi un piano editoriale e un calendario editoriale, ma è fondamentale nel momento in cui andiamo a creare delle campagne di Facebook marketing, perché sostanzialmente le persone che si trovano a girare su Facebook non vanno su Facebook o Instagram, parlo Facebook in generale, per acquistare, non lo vanno, non vanno per acquistare sui social network ad oggi. Quindi quello che noi dobbiamo fare è stimolare un bisogno latente che c'è nelle persone e come facciamo? Dobbiamo conoscere bene chi è il nostro cliente, dobbiamo conoscere bene quali sono i bisogni e i desideri del nostro potenziale cliente, perché dobbiamo stimolare questi bisogni latenti. E' fondamentale anche capire perché ci scelgono. Quindi semplicemente se voi avete un gruppo di clienti con una relazione più stretta, chiedete semplicemente perché vengono a voi e da lì riuscite ad andare a profilare un potenziale cliente in seguito a varie domande. Potete fare anche delle domande nascoste, nel senso che tramite Google potete utilizzare questi format per fare delle domande ai vostri clienti e così iniziate a targettizzarli. Quindi questa è la parte di obiettivi. Arriviamo alla vera e propria ottimizzazione della pagina Facebook e questo perché? Perché se non ottimizziamo la pagina Facebook e poi vedremo anche l'account Instagram, perdiamo la possibilità che l'algoritmo ci proponga o ci suggerisca a utenti che non ci conoscono ma che potenzialmente potrebbero essere interessati a noi per caratteristiche che noi abbiamo inserito nelle informazioni. Quindi allora qui ho preso ad esempio il mio screenshot della pagina Facebook dove allora abbiamo l'immagine del profilo che qui se è una persona va la foto della persona, se è un'azienda va il logo. Fate attenzione che da un anno, un anno e mezzo a questa parte il logo deve essere ottimizzato per il formato rotondo e non tutti l'hanno già aggiornato per cui controllate il vostro se è già aggiornato in caso lo ottimizzate. Per quanto riguarda invece l'immagine di copertina è quel primo contatto che noi abbiamo con gli utenti che atterrano sulla nostra pagina, quindi sfruttiamola per dare un messaggio che sia coerente con il nostro brand. Possiamo per esempio cambiarla una volta al mese in base al prodotto del mese. Se abbiamo delle comunicazioni importanti possiamo scriverla in queste immagini di copertina, per esempio la partecipazione ad una fiera di settore quando saranno disponibili. Poi per quanto riguarda sempre l'immagine di copertina potete utilizzare video e potete inserire anche più immagini per cui le persone a scorrimento possono andare a vedere cosa avete inserito e cosa proponete. Successivamente sempre per quanto riguarda l'ottimizzazione della pagina di Facebook controllate se nella categoria avete inserito la categoria esatta. Tanto più tenete presente che potete inserire fino a tre categorie e se Facebook vi dà la possibilità di trovare tre categorie affini alla vostra attività inserite le tutte e tre perché come detto prima più informazioni diamo a Facebook sulla nostra attività più raccoglie dati da poi per poi suggerirci a persone utenti che potrebbero diventare clienti. Fate attenzione appunto che la sezione dell'informazione sia completa con tutti i dati richiesti da Facebook soprattutto che l'indirizzo è giusto perché mi è capitato vedere di realtà l'indirizzo fosse sbagliato e anche perché tramite l'indirizzo possiamo direttamente geolocalizzare una realtà. Inoltre con tutti questi stravolgimenti che ci sono controllate anche che gli orari di apertura se avete aperture siano corretti perché se avete anche delle attività aperte al pubblico non so come funzionano varie zone d'Italia poi con le restrizioni le persone potrebbero cercarvi e cercare se siete aperti oppure no. Se gli orari non sono corretti magari rischiate di perdere un potenziale cliente. Quindi fate attenzione anche a questi dati. e poi cosa molto molto importante sono le recensioni perché sempre più persone controllano le recensioni di Facebook le recensioni oltretutto sono viste da Facebook come quella che è la riprova sociale del marketing ovvero più recensioni positive hai più valore Facebook dà alla tua pagina. Cosa significa? Che potenzialmente ti fa vedere a più persone perché reputa la tua pagina un profilo di valore. Quindi cerchiamo di stimolare le recensioni perché ogni qualvolta una persona fa una recensione positiva questa recensione positiva viene vista anche da tutti gli amici della persona e quindi è una visibilità gratuita che ci viene regalata. Successivamente poi vi farò vedere anche come stimolarle e un trucchetto per aggiungere anche dei coupon o insomma in base al vostro modello di business un regalo in più per fare recensioni. Però lo vediamo dopo. Sempre per quanto riguarda la ottimizzazione della pagina Facebook controllate Messenger che sia funzionante e abbia tutte le caratteristiche attive nel senso che allora Messenger innanzitutto è una della seconda app più scaricata al mondo e tendenzialmente le persone sono più propense a inviare un messaggio anziché a chiamare. Perché? Perché nel momento in cui chiamo io posso o non trovare la persona o non mi rispondono oppure mi rispondono e non sono soddisfatto comunque io vado a investire del tempo. Con il messaggio lo invio immediatamente e potenzialmente ricevo immediatamente una risposta diminuendo i tempi. Quindi sfruttiamo Messenger. Come possiamo sfruttarlo? Possiamo sfruttarlo inserendo innanzitutto un messaggio di benvenuto a chi atterra sulla nostra pagina o a chi ci contatta. Nel momento in cui ci contatta una persona un messaggio di benvenuto arriva automaticamente perché lo preimpostiamo noi dicendo può essere tipo buongiorno purtroppo riapriamo domani mattina alle 9 e ti ricontatteremo al più presto. Per cui quella persona intanto non si sente lasciata allo sbando e diamo anche l'idea di un supporto di Customer Care. Poi un'altra cosa che possiamo inserire molto molto utile questa sono le FAQ per cui le domande frequenti. Possiamo inserirne tre o quattro al massimo e andiamo semplicemente a definire quali sono le domande che ci fanno più frequentemente i nostri clienti. Inseriamo già le risposte e nel momento in cui un utente atterra sulla nostra pagina Facebook questa tendina si aprirà con le quattro domande più frequenti nel momento in cui una persona clicca per vedere una risposta noi vediamo anche il contatto di quella persona per cui possiamo anche tenere traccia di chi ha guardato determinate risposte tra queste tre o quattro selezionate. Questo è anche utile per scremare eventuali messaggi. Immagino che se ci siano delle attività che hanno messaggi frequenti se si inseriscono queste domande già preimpostate si va a scremare anche l'attività del customer care. Poi un'altra cosa molto importante allora Facebook dà valore alla pagina anche in base alla velocità con cui si risponde ai messaggi. Infatti non so se vi è mai capitato di vedere quando ottenete dei messaggi e questa attività risponde entro 20 ore, 40 ore. Allora quello è un valore che viene definito da Facebook e più breve è la risposta maggior valore ha quell'accanto perché significa che è reattivo e è davvero un mezzo di supporto per il potenziale cliente e per l'utente di Facebook. Allora cosa vi consiglio di fare? se voi lavorate in azienda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 impostate come orari di messaggio d'assenza che partano in automatico e ora in cui non ci siete quindi sabato e domenica e dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 8 del mattino. In questo modo se una persona vi scrive il venerdì sera quando voi non ci siete innanzitutto riceverà un messaggio che avvisa non siamo disponibili ti ricontatteremo al più presto lunedì. Secondo Facebook inizierà a contare il vostro tempo di risposta dal lunedì alle 9 e non dal venerdì notte per cui cosa sono? Tre giorni. E quindi capite che il tempo poi che comunicherà agli utenti che arrivano sulla vostra pagina sarà risponde velocemente in mezz'ora anziché risponde dopo tre giorni. Poi allora qui ritorniamo alla pagina consigliata allora quando come vi dicevo le review e le recensioni sono molto molto importanti sempre più spesso vengono guardate io stessa guardo le recensioni di attività di ristoranti di qualsiasi genere proprio per vedere che impatto hanno sui loro utenti sui loro clienti. Allora si possono stimolare queste recensioni positive e potete impostare una risposta automatica che ad ogni recensione positiva date una risposta di ringraziamento ma in aggiunta potete anche caricare un'immagine e questa immagine potrebbe essere anche uno sconto o un omaggio che decidete in base alla vostra attività al vostro modello di business ma che porti le persone anche all'acquisto ripetuto questa cosa è totalmente gratuita perché si imposta il messaggio in modo gratuito e anche l'eventuale immagine con lo sconto con l'omaggio lo si imposta gratuitamente certo è che se parallelamente fate una campagna per sponsorizzare questa attività questa promozione tramite le recensioni di certo avete più visibilità però già facendo questa attività in organico e quindi senza campagne avrete potenzialmente maggiori recensioni positive e quindi avrete un valore più positivo visto da Facebook aumenterete le recensioni positive e quindi i potenziali utenti che atterrano sulla vostra pagina e vedono queste recensioni positive per riprova sociale sono più propensi a venire verso di voi e a interessarsi a voi e terza cosa magari aumentate anche le vendite con sconti o particolari promozioni quindi valutate questa questa attività della pagina consigliata perché non è molto conosciuta e può essere sfruttata poi invece sempre tornando a Messenger sfruttate Messenger come app su sito web perché in questo modo le persone possono scrivervi immediatamente nel momento in cui arrivano sul vostro sito c'è l'iconcina di Messenger cliccando lì sono direttamente in contatto con voi per cui io suggerisco di inserirla c'è anche la possibilità di inserire Whatsapp dipende cosa preferite o l'una o l'altra però un contatto immediato e diretto anche dal sito verso i social dà un'idea di customer care attenta verso il potenziale cliente e quindi qui abbiamo finito la parte di Facebook e approdiamo al mondo di Instagram allora qui Instagram ha una gestione diversa allora innanzitutto per quanto riguarda Instagram bisogna fare attenzione alla bio perché possiamo mettere pochissimi caratteri e qui nella bio di Instagram dobbiamo condensare in questi pochissimi caratteri le nostre unicità allora cerchiamo di definire le nostre unicità in un elenco utilizzando anche le emoji che siano ovviamente in linea con il tono voice del brand certamente se il tono voice è formale non metterò fiorellini però un elenco puntato ci sta quindi definite le unicità cosa fate cosa proponete e eventualmente dove siete però identificatele e segnatele con elenco puntato perché facendo un elenco puntato noi aiutiamo l'occhio del cliente del potenziale cliente o comunque dell'utente a seguire una linea se noi mettiamo tre righe tutte attaccate le persone tutte noi persone siamo pigre e non ci mettiamo a leggerlo quindi dobbiamo aiutare le persone che atterrano sulla nostra bio in modo che capiscono subito chi siamo cosa facciamo e perché potremo essere utili cosa importante è identificare un hashtag perché con l'hashtag noi possiamo creare una community o comunque è una leva molto importante per far sì di creare una community per esempio io sin da quando ho fondato il blog un anno dopo nel 2014 ho utilizzato l'hashtag round about treviso che è pessimo perché ha una dispersione altissima perché è difficile da scrivere ma al tempo non ci pensavo queste cose e ogni giovedì facevo la peak of the week da 2014 a 2019 ogni giovedì ho fatto la peak of the week ovvero tutte le foto che venivano pubblicate con hashtag round about treviso in una settimana poi la più bella veniva pubblicata nel mio feed io ho smesso lo scorso anno di fare questo tipo di attività e attualmente più di 27.000 volte è stato utilizzato l'hashtag round about treviso e viene ancora utilizzato quindi sfruttate anche questa potenzialità che mette a disposizione Instagram di utilizzare il vostro hashtag non mettetene uno di generico perché altrimenti si va disperso perché ce ne sono ci sono altre attività deve essere vostro identificativo e stimolate le persone a utilizzarlo perché facendo così e dopo con altre attività ovviamente di supporto ma questo vi dà un modo immediato per creare una community non capiterà subito dovrete perseverare perché insomma le persone non sono reattive subito ma insomma dopo un po' vedrete che inizieranno a farlo a utilizzare l'hashtag cosa importante inoltre sono le storie di evidenza allora sono queste storie dove potete raggruppare per esempio le vostre attività e qui si raggruppano appunto le stories potete raggrupparle per prodotto per evento che è accaduto che avete organizzato vi suggerisco di creare una creatività specifica per le stories in evidenza perché dà un senso di un avvio un account più curato per quanto riguarda Instagram le ultime novità anzi l'ultimissima novità di un mese e mezzo circa sono le guide allora sappiamo che ogni novità che viene rilasciata dai social in generale sono quelle a cui viene data più visibilità quindi alle guide viene data molta visibilità e allora sfruttiamole come i real viene data molta visibilità quindi sfruttiamoli sfruttiamo anche le guide visto che sono nuove e visto che poche attività o persone comunque le stanno utilizzando le guide allora come vedete le trovate qui in nell'account con come un libricino una guida vera e propria e si possono creare con tre temi allora possono essere creati su post che abbiamo pubblicato noi su prodotti che possono essere sia nostri prodotti che prodotti di altri allora se voi avete il vostro e-commerce potete fare delle guide sui vostri prodotti per esempio può essere vino bianco ma la cosa interessante è che se collaborate con influencer anche questi influencer possono condividere le guide e possono condividere i vostri prodotti sulle loro guide e quindi suggerirli all'audience che segue l'eventuale influencer o chi per esce insomma un'altra cosa interessante sono le guide per luoghi e quindi per esempio se avete oltre alla cantina una struttura ricettiva o magari fate anche delle degustazioni potete creare una guida con indicando il luogo dove vi trovate e poi dar suggerimenti di attività o cose da vedere nella zona proprio come fosse una mini guida turistica in questo modo magari le persone nel momento in cui si potrà possono decidere di venire da voi a fare la degustazione se c'è la possibilità magari di fare anche un pernottamento e poi avere un weekend più o meno già impostato da voi con i vostri suggerimenti come dicevo anzi no per ogni guida si possono inserire massimo 30 post luoghi o prodotti però non c'è un limite nella creazione delle guide a quanto ne so la loro funzione appunto come dicevo prima è quella di dare dell'ispirazione dei suggerimenti a chi ci segue promuovere i nostri prodotti o servizi e appunto come dicevo dare anche supporto promuovere prodotti altrui quindi se non avete sperimentato le guide provate a sperimentarle sono molto carine e oltretutto possono essere condivise nelle stories e anche se fatte dirette di instagram durante le dirette instagram potete condividerle magari parlate di un particolare vino con un sommelier potete condividere la guida di quel particolare vino allora per creare le guide e soprattutto per quanto riguarda la condivisione allora come avete visto per andare nelle guide basta che cliccare in questo libriccino non è detto che tutti gli account ce l'abbiano perché è in rollout e certi potrebbero non averla ancora per cui controllate se ce l'avete e inizialmente per per vedere se avete la possibilità dovete aspettate che torno indietro allora qui non è stato preso allora quando andate nell'account nella bio qui in alto c'è un più cliccando nel più in alto a destra vi vengono fuori le varie scelte tra crea storia crea post crea guida se nell'opzione qui trovate crea guida allora potete creare la primissima la create da qui dopo che avete creato la prima guida vi comparirà il libricino qua per cui se non vedete subito il libricino qui sotto le storie in evidenza non è detto che non abbiate la possibilità di farlo andate nel più in alto a destra e dopodiché una volta create le vostre guide io qui ne ho create quattro cliccate dentro la guida qui c'è una freccettina cliccando qui potete condividerla nella storia e quindi potete comunicare ai vostri utenti guardate ho creato la guida e la trovate direttamente qui cliccando qui l'utente potrà vedere tutti i post in questo caso selezionati che rientrano nella guida quindi adesso abbiamo visto la parte di ottimizzazione di Facebook di Instagram l'obiettivo per cui siamo sui social network e le target personas bisogna pubblicare quindi come si diceva non ci si alza mattino e si pubblica così di impulso ma ci deve essere una strategia per raggiungere l'obiettivo che ci siamo definiti allora è fondamentale avere dei macro obiettivi e definirli perché se noi non abbiamo dei macro obiettivi che ci porteranno contenuti che possono andare avanti per anni saremo sempre con l'acqua alla gola oddio cosa pubblico il rischio è che abbiamo un feed di Instagram e di Facebook che ripropone un catalogo e noi non vogliamo una cosa del genere perché i cataloghi non si trovano non fanno parte dei social i cataloghi eventualmente si trovano nel sito il social ha un altro obiettivo ha un altro scopo che è quello di stimolare la domanda latente del nostro utente quindi per creare delle macro rubriche devo identificare i temi che contraddistinguono la mia attività quella che viene definita la UVP la Unique Value Proposition ovvero la mia proposizione di valore cosa mi rende unico e diverso dagli altri perché le persone vengono da me e non vanno dal mio concorrente sono queste le caratteristiche fondamentali affinché noi possiamo definire gli argomenti le rubriche che tratteremo poi nel calendario editoriale allora dobbiamo aver ben chiaro che queste rubriche che andiamo a definire saranno 4 o 5 non di più sono davvero poche ma sono quelle che ci danno lo scheletro per tutta una serie di contenuti queste rubriche che andiamo a definire devono essere ripetibili per cui siamo sicuri di avere idee materiale risorse per poterle ripetere nel tempo devono essere coerenti con gli obiettivi che ci siamo prefissi devono essere sostenibili ovvero abbiamo le risorse umane ed economiche per portarle avanti nel tempo per esempio sappiamo che la creatività che dà più visibilità immediata anche in organico sono i video ma noi abbiamo le risorse abbiamo le capacità abbiamo le risorse appunto umane ed economiche per pubblicare un giorno un video quindi facciamo i conti con la realtà e definiamole definiamo le rubriche in base alla realtà come dicevo prima appunto i social media dobbiamo ben tenere presente che non devono essere un catalogo dei prodotti perché è la cosa che fa allontanare immediatamente il potenziale utente e cliente quindi definito questo per quanto riguarda le nostre la nostra unicità la nostra proposizione di valore queste rubriche possono essere riguardare le persone quindi le persone che fanno parte del team chi fa parte dell'azienda che lavoro fa si può si possono festeggiare i compleanni perché questa parte di questa parte umana crea empatia con le persone dall'altra parte che ci seguono e solitamente quando parliamo delle persone sono i post che hanno maggiore interazione di tutti perché mostrano il lato umano di di un'attività e solitamente è difficile trovare chi mostra il lato umano per varie ragioni però mostrate sia i titolari sia i collaboratori questo è fondamentale e non abbiate paura bastano anche semplici foto non occorre che parlino se proprio proprio non piace parlare dopodiché possiamo parlare dell'aggiornamento e quindi l'aggiornamento del personale l'innovazione la ricerca lo studio da parte delle persone che compongono quell'azienda la tecnologia gli strumenti che vengono utilizzati all'interno dell'azienda questo il messaggio è guarda che noi poniamo molta attenzione al prodotto poniamo molta attenzione a quello che ti serviamo ti offriamo attraverso tutta una serie di studi tutta una serie di investimenti poi un'altra cosa molto importante sono i consigli quindi dare consigli utili immagino un B2C come abbinare i piatti con un determinato vino a che temperatura servire il vino come capire se un vino sa di tappo perché noi quando facciamo il nostro lavoro diamo per scontato tante cose ma dobbiamo capire che dall'altra parte ci sono persone che non fanno il nostro lavoro e quindi spiegare anche semplicemente come identificare un vino che sa di tappo adesso non so se sia una cosa fattibile oppure no però dare due o tre indicazioni quello diventa una gratificazione per la persona che lo legge e crea connessione tra l'utente e l'azienda che dà queste informazioni come conservare il vino per esempio a che temperatura non so un vino bianco di un certo tipo ha una necessità di conservazione a temperatura X il rosso immagino sia diverso ma per esempio io non lo so se una persona una persona media probabilmente non lo sa quindi diamo queste informazioni diamo questi consigli utili che ci legano con le persone che ci seguono perché poi le persone iniziano a seguirci semplicemente perché traggono un beneficio non perché noi piacciamo a loro ma semplicemente perché rispondiamo in qualche modo ad un loro bisogno ad una loro necessità poi i prodotti ovviamente i prodotti di tanto in tanto vanno raccontati ma mi raccomando non raccontateli con la vendita per cui raccontiamo il processo produttivo l'impegno che c'è dietro alla creazione del prodotto all'attenzione per esempio verso l'ambiente per esempio se abbiamo dei fornitori adesso penso a una bottiglia di vino se abbiamo dei fornitori raccontiamo come scegliamo quei fornitori per esempio le etichette se il nostro fornitore di etichette utilizza solamente carta che è FSC scriviamolo perché l'attenzione e l'empatia verso i temi ambientali sono sempre più importanti e sono quelli che determineranno anche le scelte che si fanno al momento dell'acquisto quindi parliamo di queste cose raccontiamole raccontiamole come siamo siamo anche attenti nella se coltiviamo nella scelta dei certi tipi di colture certi tipi di prodotti che non inquinino l'ambiente che siano rispettosi di conseguenza anche della salute delle persone che andranno ad acquistare quel prodotto poi immagino che un'azienda una cantina possa avere anche interesse a raccontare il proprio territorio quindi tanto in tanto raccontate dove siete perché io stessa sto pianificando appena possibile di farmi un giro in Franciacorta andare in una cantina e poi vedere cosa c'è attorno ma se la cantina già mi dà dei suggerimenti io potrei scegliere di andare da quella cantina che mi dà già dei suggerimenti anziché andare in un'altra perché mi facilita la vita è sempre la stessa cosa io rispondo a un bisogno latente del mio potenziale utente o cliente quindi vedetela con quest'ottica non utilizzate mi raccomando i social come strumenti diretti di vendita ma sono degli strumenti che portano il vostro cliente alla vendita attraverso un'altra via attraverso l'utilità che possiamo dare al cliente e infine l'unicità più unica che abbiamo è la nostra storia quindi raccontate la storia da dove è nata la vostra attività la passione come si è sviluppata può essere giovane può essere vecchia non importa è vostra è unica raccontatela raccontatela e non pensate che raccontata una volta poi non si racconta più tutti questi macro temi vanno poi declinati nel calendario auditoriale che di tanto in tanto ogni 3-4 mesi la storia della vostra attività la potete riproporre primo perché le persone si dimenticano secondo perché le persone cambiano l'ho testato direttamente sui miei sui miei social e è così le cose da vedere in giro per la provincia di Treviso sono sempre le stesse io le ripropongo ciclicamente le persone ciclicamente mi dicono non ci sono mai stata che bello e via dicendo per cui l'ho testato in prima persona ciclicamente voi ripetete gli argomenti quindi non spaventatevi che prima o dopo si esauriscono non succede allora passiamo ai suggerimenti pratici per quanto riguarda Instagram ma soprattutto perché è lì che abbiamo molti più funzioni allora se non avete la musica nelle stories siccome mi capita spesso come lo chiedano se passate dall'account business all'account creator molto probabilmente dopo qualche giorno vi trovate la musica non è una regola scritta a nessuna parte semplicemente mi è capitato di vedere che funziona così e effettivamente funziona così cosa c'è un problema è che se voi fate campagne di Facebook Ads e profilate coloro che hanno interagito con il vostro account Instagram non potete profilare il pubblico con l'account creator ma in quel caso cosa fate ritornate l'account business profilate quel pubblico fate la campagna quando è terminata la campagna ritornate l'account creator e dopo un po' mi ritorna la musica io ho superito così a questo a questo limite poi questo vale sia per Instagram che per Facebook mi raccomando nel momento in cui pubblicate un post se c'è un refuso lasciatelo non importa perché nel momento in cui voi andate a modificare il post tutte le statistiche vengono azzerate e l'algoritmo riparte a calcolare e quindi se le persone hanno già espresso una reazione non ritornano a riesprimerla e quindi mi raccomando state attenti possibilmente non pubblicate errori ma se ci sono lasciateli a meno che non sia una cosa davvero inguardabile tendenzialmente lasciateli per quanto riguarda gli hashtag invece allora vanno utilizzati solamente su Instagram non utilizzateli su Facebook anche se Facebook sta cercando sempre di tanto in tanto di reinserirli ma non è nato con l'utilizzo di hashtag Instagram si è nato con immagini hashtag punto quindi gli hashtag hanno un grande peso e se ne possono inserire fino a 30 il mio suggerimento è mettetene una quindicina perché se ne mettete 30 sembra spam oltretutto di questi 15 andate a selezionarne fate 5 che siano di ampio raggio per esempio mi viene in mente vino bianco che in Italia penso sia stato utilizzato parecchio poi altri 5 più di settore non so magari può essere luogo quindi la vostra regione o il vostro luogo il paese dove avete la sede e 5 di nicchia e questi 5 di nicchia possono essere hashtag legati all'immagine che pubblicate oppure qualcosa che cercate che magari ha viene utilizzato da pochi però qui pochi possono essere interessati al vostro al vostro post quindi mi raccomando controllate anche gli insight perché come vedete qui vi ho messo uno screenshot mio dagli hashtag mi sono arrivati 628 utenti che a dirla tutta non sono pochi quindi una volta che avete identificato i vostri hashtag ovviamente quelli basilari utilizzateli sempre perché uno sarà quello vostro nel senso hashtag azienda agricola x y quello là sarà quello vostro lo metterete sempre però una volta identificati 4 o 5 hashtag fissi poi gli altri li potete variare in base all'immagine e anche per fare prove per vedere quale vi fa vi porta più traffico e quale meno comunque testateli perché se utilizzate anche gli hashtag in modo ottimale e seguite anche le indicazioni di non modificare post dicendo potenzialmente instagram vi mette anche su esplora e esplora è quella sezione dove vi mostra persone che non vi seguono e non vi conoscono e qui 270 utenti sono arrivati da esplora quindi fate attenzione anche a queste indicazioni mi raccomando per quanto riguarda la pubblicazione allora nel momento in cui pubblicate un post questo sia per instagram che per facebook cercate di rispondere se avete messaggi subito entro le due ore perché sono le prime due ore che determinano il valore di un post all'occhio dell'algoritmo quindi fate attenzione di rispondere immediatamente non appena viene pubblicato il post se avete dei messaggi e dopo vedremo anche altre statistiche da tenere sotto controllo ma vediamo nella slide successiva prima di passare all'altra slide mi raccomando inserite il luogo la geolocalizzazione non per forza deve essere il luogo dove vi trovate può essere anche la città più vicina può essere la provincia può essere la regione dipende dipende qual è il vostro obiettivo qual è la vostra strategia però non mettete solamente sempre e solo il luogo dove assiede la vostra attività come vi dicevo per quanto riguarda le statistiche gli insight allora sono fondamentali da controllare entro le prime due ore per vedere allora innanzitutto quanti like avete ricevuto che sono metriche di vanità e i like però insomma contribuiscono a dar valore a un post i commenti sono importanti e poi i salvataggi delle immagini fate attenzione a questo perché i salvataggi delle immagini hanno più valore dei commenti e quindi più reazioni di questo genere abbiamo sommate agli hashtag più è probabile che Instagram ci metta nella sezione di esplora e quindi ci faccia vedere a persone che non ci conoscono se il post quindi immagine e caption che è il testo sono di valore vedrete che anche le visite al profilo aumentano e le vedete qui le visite al profilo cosa significa quando cliccano sul vostro tag per andare in bio e potenzialmente quelli potrebbero essere esserci anche follower nuove o clienti nuovi quindi di norma sappiamo che quando abbiamo dei contenuti molto belli abbiamo potenzialmente più like quando abbiamo contenuti molto empatici abbiamo più commenti perché coinvolgiamo emotivamente le persone e quindi le stimoliamo a scriverci quando invece abbiamo contenuti utili abbiamo più salvataggi e questo a grandi linee funziona così per esempio perché in questo post io ho avuto 394 like non ricordo bene cosa ci fosse ma sicuramente era qualcosa di empatico anche visti i messaggi però il mercoledì quando io faccio le pillole di social in cui do informazioni sui social network come utilizzarli allora commenti non ne ho quasi mai però i salvataggi sono molto molto alti perché perché le persone si salvano quel quel carosello di immagini dove io do delle informazioni e se le vanno a vedere successivamente e quindi è il classico caso che i contenuti utili generano salvataggi come dicevamo prima allora dobbiamo creare uno spiano editoriale definire le rubriche e poi fare attenzione a tutte le varie opzioni per far sì che i nostri post in organico siano più visibili o vengono fatti vedere di più dall'algoritmo come facciamo a pubblicare il programmiamo programmiamo tutto con uno strumento messo a disposizione gratuitamente da facebook che è facebook creator studio tramite questo strumento possiamo pubblicare sia su facebook sia su instagram e lì possiamo anche andare a vedere le statistiche e quindi vedere l'andamento per di facebook e di instagram in organico quindi tenete tenete presente questa funzionalità che non so se la conoscete già però è molto molto utile e facile da utilizzare a differenza del business manager altri suggerimenti pratici come ho appena menzionato il business manager arriviamo qui allora questo è un suggerimento davvero spassionato perché capita non so se abbiate agenzie o professionisti esterni che gestiscono i vostri social media nel caso sia così mi raccomando fate attenzione che questi professionisti entrino a far parte del vostro business manager come partner perché su persone dovete esserci voi nel senso gli admin e quindi sostanzialmente di solito sono i titolari o i responsabili marketing e ce ne devono essere almeno due perché nel malaugurato caso in cui venga bloccato il business manager e succede se una persona non riesce a entrare almeno entra l'altra a sbloccare e questi gli admin le trovate appunto proprio sotto le persone gli admin possono dare accesso ai partner e quindi agenzie comunicazione o professionista e possono anche inserire sotto le persone i dipendenti che hanno dei poteri più limitati rispetto all'admin giustamente abilitate l'autentificazione a due fattori mi raccomando per il business manager perché ci sono sempre più attività di hacker con facebook e instagram attivando questa autentificazione a due fattori almeno si riduce la possibilità anche se non si annulla completamente però almeno si rende la vita un po' più difficile e poi controllate anche che i dati di fatturazione siano corretti perché poi chiedete al vostro commercialista però gli investimenti per attività di pubblicità credo possono avere una detrazione quindi fate attenzione ai dati di fatturazione che siano corretti e infine e ci siamo per quanto riguarda le ultime gli ultimi due suggerimenti sono innanzitutto prima di iniziare a fare campagne facebook marketing leggete bene la policy perché perché ci sono delle restrizioni in base al settore in base ai prodotti stabilite da facebook e se infrangete la policy oltre a darvi punteggi negativi facebook dopo un po' di infrazioni può anche decidere di bloccare o ancora peggio chiudere l'accanto pubblicitario e siccome è capitato anche a me che avessero bloccato l'accanto pubblicitario per sbaglio poi dovete andare tramite l'assistenza vi dico non è per niente bello perché non lo fanno immediatamente ci vuole del tempo e quel tempo voi rischiate di doverlo vedere cadere negativamente sulla vostra attività di facebook marketing perché non potete fare nulla quindi mi raccomando leggete benissimo la policy prima di iniziare a fare delle campagne e soprattutto qui vi lascio sia link per la policy delle ads sia per il supporto dell'assistenza di facebook come dicevo prima per per qualsiasi nel momento in cui facciamo della pubblicità con facebook sicuramente arriveremo ad avere degli intoppi è meglio non averne perché l'assistenza di facebook a volte funziona a volte no per cui è sempre un dramma però se vi serve cliccate qui vi porterà ad una pagina dove in base al vostro tipo di account pubblicitario avrete delle funzionalità e dei modi di accedere all'assistenza diversi per esempio io ho la chat per cui posso iniziare a chattare con un agente di facebook ci sono certi account che non hanno la chat devono mandare un'email ci sono certi altri che hanno un agente di facebook per loro perché vanno a valutare il tipo di assistenza da dare in base all'investimento pubblicitario che facciamo un'email un'email per loro